Un'impresa che volesse contribuire a una crescita economica inclusiva e sostenibile, come recita l'obiettivo 8 dell'Agenda delle Nazioni Unite, deve necessariamente modificare la propria strategia. Ma per fare in modo che ci sia un reale impatto è necessario che gli obiettivi di sostenibilità vengano poi presi in considerazione anche dalle scelte di progettazione organizzativa. Questo implica fondamentalmente porsi delle domande universali di progettazione organizzativa, ovvero quali sono i compiti da svolgere, come dividiamo il lavoro e come lo integriamo. Nella sostanza si tratta di stabilire chi decide gli obiettivi, stabilire quale ruolo e quale posizione organizzativa deve avere il Chief Sustainability Officer o ancora come deve essere composto un team di sostenibilità e ultimo, ma non meno importante, fare in modo che la cultura organizzativa dell'impresa incorpori i valori della sostenibilità.